Assessore c'è una buona notizia perché finalmente è arrivata la bonifica di un'area, quella vicino al benzinale Piano Daccio, che era parecchio attesa da diverso tempo. Sì esattamente, si tratta di un'area privata in cui il Comune ha cercato un'interlocuzione direttamente con il privato che da subito si è mostrato assolutamente disponibile. Questo anche a dimostrazione del fatto che al territorio ci tengono tutti, ci dobbiamo tenere tutti quanti. Quindi è stata fatta una bonifica a suo carico, azzerando la situazione, insieme in collaborazione con la pubblica amministrazione si è cercato di recintare quell'area, quello spazio al di sotto del cavalcavia in ingresso poi in uscita verso Sant'Atto e contestualmente anche la sistemazione di fototrappole, quindi di un sistema di videosorveglianza che possa abbattere e contrastare tutto quello che è stato finora quel sito. Siamo molto soddisfatti perché è un'ottima collaborazione tra pubblico e privato, soprattutto nel ripristino ambientale che poi è ciò che deve essere di interesse per la collettività. È una battaglia contro gli incivili che va avanti perché purtroppo nel territorio comunale c'è ancora la mania in diverse zone di abbandonare rifiuti e non fare correttamente la raccolta differenziata, però vi state impegnando in tal senso? Assolutamente sì, di solito sono tantissimi controlli giornalieri che vengono effettuati sul territorio, molte sono le sanzioni che vengono elevate secondo quanto previsto dal codice dell'ambiente, quindi poi soldi che vengono dati alla provincia anche attraverso i quali riesce poi a bonificare le proprie aree di competenza, quindi diciamo che è un lavoro, mi permetto di dire, anche una collaborazione tra enti che serve, ahimè, purtroppo a punire coloro che si comportano male e forse per un'amministrazione è l'ultimo dei desideri quello di punire, ma chiaramente laddove ci troviamo di fronte a reati di questo tipo, perché l'abbandono è un reato ambientale, non possiamo esimerci dal controllo.